Presentata in Consiglio Comunale la relazione di fine mandato, un documento in cui vengono esposti gli obiettivi raggiunti dall'amministrazione fra il 2014 e il 2019. Ne parliamo con l'assessore alla cultura e servizi demografici Maria Teresa Nasi. Cinque anni di lavoro intenso in cui si è aperto il polo culturale di Palazzo Teriaferro e si è fatto molta attività in ogni settore. Certamente è stato un fantastico viaggio culturale durato cinque anni, impernato soprattutto su Palazzo Teriaferro. Palazzo Teriaferro è intanto il piano nobile che è la nostra galleria civica con mostre che si susseguono durante tutto l'anno. Palazzo Teriaferro è il museo mineralogico dove prossimamente a giugno apriremo una sezione dedicata allo scopritore e navigatore norvegese Tor Ejerdal dove si possono visitare i minerali, i 5.000 pezzi che fanno di questo museo il secondo di Europa e che comprende i pezzi del professor Dabroi, del signor Schipper e del signor Usai. Il mineralogico è ancora location del Festival della Scienza, è un luogo dove i ragazzi delle scuole primarie e secondarie possono venire a fare laboratori ed è un posto dove si fanno anche mostre attinenti a temi scientifici. Palazzo Teriaferro è poi l'Uni 3, l'Uni 3 al piano terra e accanto alla sede destinata all'Uni 3 abbiamo la stupenda cappella privata dei Tagliaferro dove vengono periodicamente fatte delle mostre fotografiche. All'esterno di Palazzo Tagliaferro lo scenario stupendo dell'anfiteatro ospita il Festival del Noir a luglio Festival del Noir nato da una felice idea del sindaco De Michelis con Pinkez e questo festival ormai è diventato un evento particolarmente importante e noto a livello nazionale. Sempre all'interno di Tagliaferro oppure nelle aree esterne viene fatto un evento che si chiama Sguardi Laterali, presentazione di libri. Ma presentazione di libri noi abbiamo anche sotto l'archetto nella zona di Santa Rita nella parte proprio vecchia di Andorra anche in questo caso vengono presentati libri saggi di autori vari. Un altro evento che è stato ideato da questa amministrazione è la storia andoresi un'analisi socio-storico ambientale sull'Andorra di un tempo con testimonianze di persone che hanno vissuto determinate vicende con ricordi anche tratti dai libri di Marino Vezzaro piuttosto che di Almanfosso, di Giusto, di Degola. e tutti questi vari eventi culturali hanno fatto in modo che Andorra si senta veramente ricca e orgogliosa di quello che fa. Noi oltre a questo abbiamo continuato con l'estate musicale andorese che era stata ideata nel 1983 dall'amministrazione del tempo però l'abbiamo arricchita con il concerto all'alba, questo evento ormai noto a livello nazionale in cui il gruppo degli archi di Genova, dei musicisti del Carlo Felice ci appunto inebriano con questa rappresentazione musicale. Devo dire che cultura e anche natura io vorrei limitarmi a citare un evento particolare, particolarmente suggestivo che è la camminata tra gli olivi una camminata che si svolge da conna sino a Duomo è fatta in collaborazione con le città dell'olio e da modo di valorizzare il nostro oro verde e che dà modo inoltre di vedere delle particolarità locali e di ammirare vari monumenti e chiese antiche.